Maestà, Altezza e Reali, Distinte Autorità del Regno del Marocco, Membri del Corpo Diplomatico, Cari Amici Marocchini, Assalamualaikum. Applausi E per la carorosa accoglienza che a nome di tutto il popolo marocchino mi ha poc'anzi riservato, in particolare per le cortesie parole che mi ha rivolto. Applausi 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 E delle vostre tradizioni. Gratitudine che si trasforma in importanti opportunità per promuovere il dialogo interreligioso e la conoscenza reciproca tra i fedeli delle nostre due religioni. Mentre facciamo memoria, 800 anni dopo, dello storico incontro tra San Francesco di Assisi e il sultano Alma-Lei Calcamille, quell'evento profettico dimostra che il coraggio dell'incontro e della mano tessa sono una via di pace e di armonia per l'umanità, là dove l'estremismo e l'odio sono fattori di divisione e di distruzione. Inoltre auspico che la stima, il rispetto e la collaborazione tra di noi contribuiscano ad approfondire i nostri legami di amicizia sincera per consentire alle nostre comunità di preparare un futuro migliore alle nuove generazioni. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti